Monete dinamiche terza versione Noi abbiamo due tappetini d'ottone e una serie di monete da 50 centisimi Copro le monete e provo a farle passare da una parte all'altra Faccio vedere i tappetini, prendo le monete, le lancio e le monete viaggiano da una parte all'altra E di nuovo, prendo le monete, le lancio le monete viaggiano da una parte all'altra per ritornare di nuovo indietro Proviamo a farlo un pochettino più lentamente questa volta Prendo davvero le monete e le monete viaggiano davvero da una parte all'altra Ora provo a farlo ancora più lentamente Prendo le monete, le lancio, le afferro dopodiché le rilancio di nuovo qua all'interno Facciamo un rallent Prendo le monete, le lancio, le afferro e le monete passano da una parte all'altra questa è la monete dinamica E' la mia ropa e si può trovare e si può trovare e si può trovare La mia ropa